Musica Riacupere il pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Ingressi in campo, terza giornata, Social Cup Fat Club Partenope contro Mazembe squadre che si stanno disponendo in campo da una parte il Mazembe casacca arancione e l'altra Fat Club Partenope ecco il saluto per il pubblico del Kennedy Stadium e ora saluto fra le due squadre i capitani per la scelta del campo per favore ora ci sarà il tocco tra i due capitani ok chi trova il fischietto sceglie il campo d'accordo? sceglie lei? mette la mano? ok grazie quale campo preferisci? palla no quale campo? scelta palla e campo possiamo chiudere il collegamento ricordando la partita Mazembe contro Fat Club Partenope inizio primo tempo Mazembe contro Fat Club Partenope tassa giornata Social Cup in stato di 0-0 seguiremo tutto il primo tempo grazie a tutti achusetts grazie a tutti Ishisma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.